È diventata operativa l'attività di Monte Ciccardo come municipio incorporato al comune di Pesaro. L'ultima chiamata alle urne ha eletto, col raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto di Monte Ciccardo, il presidente del neonato municipio Claudio Bonazzoli, che si è insediato con cerimonia di giuramento. Oggi con il giuramento del primo consiglio di convalida degli aletti del municipio prende forma questa nuova fase amministrativa per il municipio di Monte Ciccardo e dobbiamo iniziare a lavorare. Nel comune di Pesaro ha già anticipato i primi soldi per gli asfalti, sono già state fatte alcune vie. Da qui a dicembre noi dovremo cercare di capire gli investimenti per il 2021 da mettere a bilanza nel comune di Pesaro, quindi in questi mesi lavoreremo soprattutto per questo e poi anche per tutto il resto, per far rinascere questo territorio che ultimamente è stato un pochino trascurato. È una bella responsabilità quando non c'è più un comune, si diventa un appendice di un comune più grande, quindi c'è un lavoro importante per non sentirsi troppo periferia? Sì, sicuramente potrebbe esserci una parte di rischio in questa scelta che i cittadini hanno voluto con il referendum, però dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, sta ai cittadini stessi non far morire un territorio. Quindi fare in modo che la gente rimanga ad abitare qui, che ci siano servizi, che la gente sia attiva e partecipe nella vita comunitaria è molto importante. Quindi riteniamo che comunque essendoci tante persone ancora legate a questo territorio, si possa fare un bel lavoro anche da questo punto di vista. Adesso si inizia a lavorare. Claudio, il nuovo presidente, ha giurato, il Consiglio è stato eletto e il municipio di Montecicardo avrà una funzione importantissima perché Montecicardo ha mantenuto l'autonomia decisionale, quindi tutto ciò che decideremo che riguarda questo territorio dovrà avere il parere preventivo positivo da parte del municipio di Montecicardo. Quindi è una forma di partecipazione e di autonomia che abbiamo riconosciuto grazie alla fusione per incorporazione. I cittadini hanno dato grande fiducia a quest'unione con Pesaro e adesso hanno dato fiducia alla nuova squadra unitaria che si è creata nell'interesse di Montecicardo. Abbiamo iniziato i primi lavori di asfaltatura, ma c'è subito da programmare il mutuo che dobbiamo prendere per circa 5 milioni di investimenti che dovevamo realizzare già dal 2021 in questo comune. Quindi Claudio avrà un grande lavoro da fare insieme al Consiglio perché le priorità arriveranno appunto dal Consiglio Municipale e noi dovremo da subito dal bilancio 2021 cominciare a finanziarli. Quindi c'è tanto lavoro da fare, tanta precauzione ancora da tenere a causa del virus che è ancora tra noi e quindi dovremo aumentare ulteriormente le precauzioni, le mascherine, le distanze, il lavaggio delle mani, scaricare l'app Immuni. Quindi avremo mesi davanti a noi molto complicati, però da oggi Pesaro è ancora più forte, c'è una squadra locale su Montecicardo che ci darà una mano a realizzare al meglio le cose previste sia a Montecicardo, a Montegaudio, a Villabetti, in tutto il territorio splendido che da qualche mese ormai è comune di Pesaro. Grazie a tutti.